Adesso piccolo va a fare un check-in, va a vedere se effettivamente ci ha riuscito Ci sarà riuscito? Guarda tutti quei pezzi di merda in giro rosa Sì, ciao! Ma cazzo ha fatto sopravvivere sto coglione? Scusa, non era lì vicino all'esplosione nucleare della Madonna? Sono i pezzettini ancora che si muovono, nooo Non è servito un cazzo E' vero che Majin Buu ha anche il potere di curare, è pazzesco Majin Buu è un agglomerato di funzioni OP Ma loro fanno un tour di uccisioni in giro per tutto il pianeta Ti bastas, fai tuus Praticamente Vegeta sì, si è sacrificato per un cazzo Tutti al santuario di Dendino Goku che si è fatta una dormita Diamo che è andato tutta la merda praticamente Ah, bello questo dettaglio particolare dove adesso Goku è malconciato Perché ha appena finito di spaccarsi le caviglie con Vegeta Grande Goku! Dendino! Buon nome è, scusami di... Sei ancora vivo, dice Ma codia, sei già morto Non è che può morire di nuovo Grande Krillie! Quindi si fa guarire da Dende E scopre un po' com'è la situazione Quindi qua, lui pensa che Gohan e Kaioshin siano belli che andati Distruggerebbe la terra Quindi tu dici Se Vegeta e Gohan fossero stati ancora vivi Avremmo avuto una possibilità Però lui diceva Parlo della fusione Che cos'è la fusione, zio bo? Una delle tecniche più fighe di tutti i tempi Devono essere più o meno della stessa forza e addirittura corporatura Io mi chiedo Ma Vegeta non è altissimo Vuol dire neanche Goku Però sicuramente la differenza c'è Il limite è che possono rimanere uniti solo per 30 minuti Quindi lui dice Se Gohan e Vegeta fossero stati vivi Lui avrebbe potuto fondersi con loro Chissà cosa cazzo sarebbe uscito fuori Goku con Gohan Gohan E poi arriva Mr. Popo che dice Ma hai i pischelletti dentro? Alti uguale? Forza simile? Mica male come idea Minchia Uno sei l'altro sette anni Oh godiazze E voi cosa facevate a sei sette anni? Io probabilmente ero lì che piangevo perché volevo giocare al Game Boy Qualcuno ha evocato qua il drago? Vegeta ha ucciso molte persone al torneo Quindi vuole far risuscitare quella gente Però se fai i tre desideri adesso Devi aspettare Ronaldo Vai Goku Fermala Prima che fa una cazzata Prima che desidera ancora di voler ringiovanire Quindi il primo desiderio l'hanno già espresso Però per fortuna Goku arriva in tempo Per evitare che pronunciano gli altri due Poi abbiamo una persona riportata in vita rispetto del drago Cazzo è vero Kibito era stato ucciso da Darbula Però essendo che sono state riportate in vita le persone E' tornata in vita anche lui Mi hanno dimenticato È vero Allora il Kaioshin dove cazzo sta? Allora dice che è ancora vivo Vegeta che è esplosione nucleare Loro che erano a tre metri Dunque mi sorprende Grande supremo Kaioshin Che conosce tutto Il dio dei dii Affiliato con Virus E non conosce le sfere del drago Che riportano in vita Non lo so Non lo so Dai andate a salvare pure Gohan Lo sapete che è ancora vivo Per poco eh Però Devono fare entrare un mortale Nella terra dei Kaio Kai Kai What the fuck Anche lui c'è il teletrasporto Minchia Kibito È una fusione di tecniche utili E poi lo guarisce Così Subito Andato Do cazzo stiamo Scemi voglia Il luogo sacro In cui neppure Gli dei e rei Kaio Possono entrare Per non parlare Dei mortali Vogliono Che lui usa La spada zeta Dice che un essere Mano non può essere In grado di usarla Comunque per essere Tutti sti grandi esseri Onnipotenti Non capiscono Un cazzo del mondo E lui dice Vabbè proviamo Zì Cioè al massimo Se non la tirano fuori Cazzi Gli cambia pure i vestiti Minchia Quando gli dà questi vestiti Qua è una bomba Outfit migliore della serie Bam E diventa ancora più figo Quando si trasforma Che bello Ascoltate Ditemi Se questo non è un outfit Veramente Degno Di un fottuto Saiyan Cioè è bellissimo Per favore Riportate indietro Questo outfit Gli sta troppo bene Cazzo Mi piace un sacco Comunque la terra dei Kaio È troppo bella È rilassante Per qualche motivo Non lo so Beccaterà la spada Z Nessuno ci è mai riuscito Vai Tirala fuori Grande Gibito Continua a mandartela Vedi adesso Come ti pisce in testo Gohan Vai Gohan Ok In questo modo Dice Ok Non va bene Quindi Mo E mo si impegna Vai Gohan Non farà la differenza Sì sì Molti dei Kaio Ci hanno provati Senza successo Un semplice mortale Non ha speranze Rip Minchia L'ha tirata fuori così Proprio Com'è la sito qua Goku Ve lo dirò Senza girarci troppo intorno La sito è una merda Ok Cici è svenuta Ma Bulma mi sa che sta piangendo Povera Bulma Cici la guarda Gli fa First time Che ti muore il marito Oh Babidi Bibidi Bobidi Cazzo vuoi Semplice cittadino B Cittadino C Sei preso a male Sono stato infastidito Tre stupidi li sto cercando Piccolo Goten E Dragso Destruzione totale Vi dovete dare una mossa Fare la fusione Con i due piccoletti Dai Drankton piangere No Povero Goten No Piccolino Grande Goku Basta piangere Avete rattoccato Su Guardate sta fusione Non ho scusato Guys Abita in un posto Chiamato a West Capsule Carparece A West City Gli è radar del drago Zio Porto Dai stavano per imparare la fusione Ok quindi Goku Adesso cerca di andare a Intrattenerlo A A Machibu Dai Goku Do cazzo siete pezzi di me Scemi Paglia Yo bitch It's a me A Kakarot E gli dice Per favore smettetelo Di uccidere Di distruggere Che arriveranno E quindi Goku dice Va bene dai Vi intrattengo io E gli dice Perché obbedisci a Babidi Che sei straforte Però lo minaccia Perché lo può rinchiudere E effettivamente Lui dice Se Bu viene rinchiuso Tu che cazzo fai Scemo di me Vai Goku Fagli vedere Il tuo asso Nella manica Zioba E questo è il Super Saiyan Che ha superato il limite Tanta roba Mi piace Stata trasformazione E questo è quando Superi ancora il limite Voglio vedere Se qua non c'è La differenza Ho come la sensazione Che Goku Per trasformarsi Qua Si è fatto male E ha aperto Le sopracciglia Super Saiyan E la sua voce Diventa un po' Più Profonda Adesso vi faccio vedere io Però sono già in tensione Tanta roba Bu Pia di sti schiaffi Senza le sopracciglia Con la super Kamehameha Ma si ma così è Troppo easy Merda raggio caramellante Bu Non mi tirare Scemo con le caramelle Merda schifosa Vai cacarotto Sfera megatonica Go bye bye Un cazzo Colpo impatto No 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 Comunque fare gli scontri Costantemente in tensione È troppo OP Cazzo Vieni qua Merda Merda Io ho come la sensazione Che se mi piglia una volta Con quel raggio caramellante Lì C'è solo un mezzo Fottuto Deve integnarne il più possibile Prima che Trunks arriva Dai che è quasi andato Spettacola combo Peccato che Non me l'ha fatta concludere Sta merda Ma se io Io posso contrastare Le sfere con Ah si posso Grande Vai fuori dal cazzo Carta forbici sasso Carta forbici sasso Spettacolo Concludiamola Ancora Spettacolare Grande Goku Questa è la potenza Del Super Saiyan 3 Bitch